L'essere nato sotto una montagna mi ha insegnato molto prima che a scuola l'importanza della prospettiva, come questa sia importante per capire la vita. Quando ero bambino e abitavo appunto sotto questa montagna ero convinto che la mia fosse la più grande montagna di tutte e ne ero orgoglioso. La prima volta però che sono uscito dal paese mi sono allontanato, ho scoperto che la mia montagna non era né la più grande né la più alta e devo dire che sono rimasto anche un po' un po' deluso. A tradirmi era stata proprio la prospettiva. Questo succede, questo rischio c'è anche quando esaminiamo i fatti che hanno interesse locale ma che andrebbero visti anche in un contesto molto più grande, un contesto mondiale, visto che ormai parliamo tanto anche di globalizzazione. Prendiamo per esempio il problema che c'è stato in nostro paese del terremoto che ha colpito tanti paesi dell'Emilia Romagna. Di fronte al dramma di tante persone morte anche, di chiese distrutte, di case distrutte, di capannoni crollati che hanno messo in ginocchio l'economia anche della regione c'è stata una grande mobilitazione da parte di associazioni, di gruppi, di singole persone che si sono dati veramente da fare per portare soccorso a queste popolazioni. Tutto bene quindi? Sì certo, è stata una bella dimostrazione di impegno. Io però avanzo anche qualche dubbio. Per esempio a distanza di mesi nessuno sa ancora niente, credo, di quello che è stato l'importo incassato grazie agli sms solidali che per mesi ci è stato proposto di inviare. Il fatto poi che questi sms solidali vadano alla protezione civile mi lascia ancora più perplesso ricordando quanto è successo in Kosovo, in Albania con la missione Arcobaleno e anche recentemente con scandali che hanno visto appunto la protezione civile coinvolta. Ma c'è anche un'altra questione appunto di prospettiva che mi lascia un po' perplesso. Due mesi fa ero in Uganda e ho avuto modo purtroppo di constatare come il problema della fame sia ancora un problema drammatico per tantissime persone. In un ospedale del nord Uganda ho visto un intero reparto dove c'erano centinaia di bambini malnutriti a causa della gravissima crisi economica che sta colpendo un po' tutti i paesi del sud del mondo così come anche il nostro. E dobbiamo ricordare che secondo l'Unicef 24.000 bambini anche oggi moriranno di fame. E allora mi viene da chiedermi ma come mai di fronte a questo problema, a questo dramma mondiale non c'è la stessa mobilitazione che c'è stata nei confronti del terremoto dell'Emilia. E ecco quindi che vediamo un po' il discorso della prospettiva. Molte volte quando ho avanzato questa obiezione mi è stato risposto eh sì però quelli dell'Emilia lì abbiamo aiutati e è giusto aiutarli perché non hanno nessuna colpa di quello che è capitato perché vittime di un evento naturale. Eh sì e i bambini che ho visto nelle bidonville di Campala giocare in mezzo alle immondizie tra i topi, tra gli scarafaggi, mettendo le mani nei liquiami forse avevano colpa? E le mamme e i bambini della Somalia che insieme si può sta aiutando anche in questi mesi nei campi profughi colpiti da una carestia, da una siccità che non ha uguali nella storia dell'umanità negli ultimi 50 anni. Hanno più colpa dei terremotati dell'Emilia che comunque sono stati assistiti nei campi della protezione civile. Questo problema che c'è stato in Emilia ci ha ricordato ancora una volta che noi italiani siamo un paese solidale, siamo un paese che quando ci viene richiesto sappiamo mobilitarci. Ecco partendo da questo riusciremo a guardare il mondo con la prospettiva giusta, riusciremo ad aiutare con lo stesso spirito e allo stesso modo tutti coloro che hanno bisogno, indipendentemente dal fatto che sono vicini o lontani, paesani o foresti.